ciao amici perché mangio cibo light ma non riesco a dimagrire è una domanda legittima che mi sento fare spesso come naturopata e sapete qual è la risposta la colpa è dei cibi light proprio quelli venduti come dimagranti ma come i cibi light fanno ingrassare nel campo dell'alimentazione ci sono molti falsi miti che è meglio smascherare altrimenti si ingrassa mentre si è convinti di seguire un'alimentazione dietetica perché non tutto quello che si legge sulle etichette degli alimenti è vero gli slogan light zero calorie sugar free eccetera non garantiscono la qualità nutritiva di un cibo se non si capisce il motivo per cui si ingrassa si butta tutto all'aria con grande frustrazione e non si dimagrisce mai ecco sette alimenti considerati dietetici che invece fanno ingrassare se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 cereali industriali per la colazione sono pieni di zuccheri farine raffinate calorie e spesso anche grassi idrogenati sono il cibo peggiore per iniziare la giornata 2 pane bianco confezionato è privo di fibre e non contiene nutrienti utili perché la farina è troppo impoverita 3 yogurt magro con zucchero lo yogurt è un alimento sano quando è naturale se è magro ha perso molti nutrienti che vengono rimpiazzati dallo zucchero 4 succo di frutta confezionato la frutta è naturale ma i succhi in commercio contengono spesso zuccheri aggiunti e zero fibre e pochissime vitamine e minerali che li rende inadatti alla dieta 5 bibite dietetiche sono bibite dolci senza zucchero e senza calorie sostituiti dalla chimica è stato dimostrato che aumentano l'appetito e squilibrano il metabolismo 6 dolci biologici o dietetici confezionati sono più sani perché biologici contengono meno grassi saturi ma contengono troppi zuccheri e fanno ingrassare anche se naturali 7 snack di frutta secca zuccherata attenzione perché molti snack con frutta secca sono dolcificati o salati quindi oltre ai nutrienti naturali apportano troppe calorie o sodio capita anche a voi di mangiare questi cibi spesso abusiamo di questi cibi pensando che ci facciano dimagrire e così non riusciamo a perdere peso nonostante gli sforzi ecco perché è importante farsi affiancare da uno specialista per dimagrire per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano mangia sano e vivi meglio